Come risolvere un inceppamento dell'alimentatore di documenti nella stampante HP Smart Tank Plus? Risolvere gli inceppamenti dell'alimentatore di documenti nella stampante HP Smart Tank Plus quando il pannello di controllo mostra il messaggio di errore inceppamento alimentatore di documenti. Controllare l'alimentatore documenti e verificare la presenza di carta inceppata Rimuovere tutta la carta dell'alimentatore di documenti automatico ADF, quindi sollevare il suo coperchio Rimuovere la carta inceppata dalla stampante Spingere il coperchio verso il basso finché non scatta in posizione Sollevare il coperchio dello scanner e rimuovere la carta visibile Riabbassare il coperchio in posizione, quindi premere OK sul pannello di controllo della stampante Ricaricare il documento originale nell'alimentatore di documenti Regolare le guide e scansionare il documento Se l'errore persiste, passare alla fase successiva L'accumulo di polvere e sporcizia sul pattino separatore e sui rulli di prelievo potrebbe causare inceppamenti e problemi di alimentazione Prima di eseguire la pulizia, avere a disposizione un panno privo di lanugine e acqua distillata o imbottigliata Spegnere la stampante, quindi scollegare il cavo di alimentazione Per evitare infortuni o danni alla stampante, è necessario scollegare il cavo di alimentazione Rimuovere tutta la carta dal vassoio dell'alimentatore di documenti Sollevare il coperchio dell'alimentatore di documenti, quindi individuare il pattino separatore e i rulli di prelievo Inumidire un panno privo di lanugine con acqua e strizzarlo per rimuovere l'acqua in eccesso Pulire il pattino separatore con il panno per rimuovere eventuali accumuli o sporcizia Pulire i rulli di prelievo ruotando ogni rullo per raggiungere ogni sua sezione Lasciare asciugare i rulli per 10 minuti, quindi abbassare il coperchio Collegare la stampante alla rete di alimentazione, quindi premere il pulsante di accensione Ricaricare il documento originale nell'alimentatore di documenti Regolare le guide e scansionare il documento Se il problema persiste, richiedere la manutenzione della stampante Contattare HP per le opzioni di assistenza e garanzia Fai clic sulla scheda playlist di YouTube per visualizzare i video di HP in altre lingue Cerca nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP Grazie a tutti! Grazie! Grazie!